Vieni Kira, vieni, vieni. Lei è Kira, una bulldog francese di tre anni, soccorsa lo scorso venerdì dopo un brutto incidente che gli ha causato purtroppo lesioni gravissime, craniche e spinali. A causa di gravi problemi personali ed economici, la proprietaria non può più prendersi cura di lei. Quindi in qualche modo, per ora me ne sto prendendo cura io, poi vedremo. Kira, quindi oggi è senza proprietario, è stata affidata temporaneamente all'ambulatorio del dottor Brandi di Castiglion Fiorentino e da una diagnosi di paralisi definitiva. Il midollo ha subito un'interruzione notevole, per cui purtroppo la canina dovrà stare con un carellino e dovrà essere aiutata nella minzione. Stamattina abbiamo parlato con una fisioterapista, la quale ci ha detto che magari possiamo provare con una fisioterapia a indurre nel cane un'andatura che si chiama spinale. È scattata subito una gara di solidarietà per la cagnolina da giovanotti a Selvaggia Lucarelli, passando per Andrea Scanzi. Il veterinario che l'ha salvata ha così lanciato l'idea di una lotteria premi per raccogliere fondi per le sue cure a cui hanno già risposto in tantissimi. Lorenzo ci ha dato la disponibilità di alcuni biglietti per il Jova Beach Party, magliette, libri di scansio, la Lucarelli, il tapiro d'oro. Però magari pensavo che se ci sono tante donazioni, che possono essere da 5, da 10 o da quanto gli pare, alla fine se abbiamo tutti i nominativi magari facciamo un'estrazione. Chira adesso cerca anche una famiglia che possa prendersi cura di lei. Un'adottante che chiaramente sappia cosa va in conto. Grazie. 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 Grazie.